ci tocca come colazione che sto pazzo ma che è sta chiale se almeno non mi vedete più nei video perché questo è nascosto male ma non è vero buongiorno lo stesso menù della macchina avanti lo stesso menù della macchina avanti andiamo andiamo si vai ma voglio capire perché poi le figlie devono mangiare i genitori no queste queste genitori tvs papà e mamma e papà che prendono solo mazzate stanno solo prendendo qua abbiamo trovato una coppia di ragazzi che devono fidanzare in una smart sempre smart quindi a mcdonald chi ha la smart va a mcdonald si è pazza e io faccio queste figuracce